Cos'è un test di coordinazione oculare? Un test di coordinazione oculare, noto anche come test di coordinazione occhio-mano, fornisce uno sguardo sul rapporto tra reattività visiva e fisica. Un test di coordinazione oculare rientra nella categoria più ampia di test di coordinazione, test che si concentrano sulla capacità di spostare e controllare armoniosamente due diverse parti del corpo. La coordinazione oculare è un'abilità motoria rudimentale che inizia a svilupparsi sin dalla nascita e per una corretta visione gli occhi devono lavorare in armonia. Ogni occhio vede un'immagine leggermente diversa e le immagini vengono fuse insieme nei cervelli per creare un'immagine coerente. Le mani rispondono a questi segnali visivi per svolgere diversi compiti come scrivere, leggere o prendere una palla. La coordinazione oculare è sviluppata attraverso la pratica. Gli individui con scarso controllo dei muscoli oculari possono avere una scarsa coordinazione oculare e possono mostrare segni evidenti della presenza di un problema. I tipici segni di problemi di coordinazione oculare comprendono mal di testa, affaticamento degli occhi e vertigini. I bambini con una coordinazione oculare sottosviluppata possono evitare compiti che dipendono da questa abilità, comprese le attività di lettura o di compiti a casa che implicano un'attenzione oculare intensa. In generale, un optometrista eseguirà un test di coordinazione oculare su un bambino piccolo durante una visita programmata. Il test verrà generalmente fornito come parte di un esame completo della vista che esamina la capacità del bambino di vedere a distanza, di mettere a fuoco con gli occhi e la loro chiarezza di visione. Quelli con scarsa coordinazione oculare spesso soffrono di altre condizioni oculari come l'occhio incrociato, una condizione in cui gli occhi sono fuori allineamento. Di solito, la scarsa coordinazione oculare è curabile una volta risolta la condizione dell'occhio sottostante. Anche se lo sviluppo scorretto del controllo dei muscoli oculari è la causa del problema, è anche generalmente trattato con successo con terapia della vista, farmaci e occhiali da sole. Una buona coordinazione occhio-mano è anche utile nello sport. Le mani di un giocatore di baseball, ad esempio, devono essere in grado di reagire rapidamente a una palla che può vedere arrivare ad alta velocità. Test di coordinazione oculare che valutano le prestazioni sportive sono spesso dati da allenatori sportivi come parte di una valutazione fisica. Uno di questi test è fare in modo che l'atleta si trovi di fronte a un muro, lanciando e afferrando una palla. Durante il test, l'atleta può usare solo una mano alla volta, e con ogni presa o lancio la palla passa da una mano all'altra. L'attività sportiva regolare aiuterà naturalmente a migliorare il coordinamento. Periodicamente, misurare e registrare i risultati di un test di coordinazione oculare può aiutare a valutare i miglioramenti della destrezza con il passare del tempo o indicare che sono necessari ulteriori sviluppi. I tempi di reazione, la velocità con cui una risposta è presa a uno stimolo visivo, possono anche essere combinati con un test di coordinazione oculare per misurare più accuratamente le prestazioni atletiche.